Siamo con il presidente della sezione provinciale Salerno, Fipsas, Alberto Gentile. Ci apprestiamo a vivere una nuova iniziativa coadiuvata dalla federazione, federazione che negli anni sta incrementando la sua attività e negli ultimi tempi è riuscita ad aumentare anche il numero di iscritti. Un movimento sempre più in crescita. Assolutamente sì. Considerando anche il periodo di crisi, riuscire oggi ad avvicinare soprattutto i giovani, ma tutti quanti i pescatori in generale, alle attività legate alla federazione, non è cosa semplice. Tutti si aspettano grandi cose, tutti si aspettano di poter praticare la propria passione con a volte anche qualche comodità. Non è sempre facile, però noi stiamo cercando di stringere alleanze sia con enti pubblici sia con i privati, al fine di poter aumentare quanto più possibile il ventaglio di opzioni per i pescatori, in particolare per i pescatori, ma in generale per tutte quante le attività collegate alla federazione, che ricordo non è soltanto pesca ma è anche attività subacque, quindi significa nuto pinnato, significa subacquea, significa didattica. 4 ottobre ci sarà un evento organizzato dalla Cava Team. Benvengano queste iniziative per incrementare la pratica della pesca sportiva e di tutte le attività che fanno capo alla FIPSAS. Nella maniera più assoluta, io approfitto di questa occasione, di questo momento per esprimere il mio più sincero applauso all'Associazione Cava Team per questa iniziativa. Tutte quante le società affiliate alla FIPSAS sono chiamate a organizzare, a promuovere attività come questa, perché attività come questa significa riuscire ad avvicinare nuovi pescatori alla pesca, persone che non sono degli agonisti, non sono professionisti, ma che possono iniziare a prendere confidenza con, in particolare con la specialità del surfcasting, ma in generale, poiché le discipline della pesca sono tante, iniziative del genere servono ad avvicinare i pescatori al movimento che la federazione, la federazione tutta, in tutta Italia, promuove quotidianamente. FIPSAS molto attiva in provincia di Salerno, quali le iniziative avviate dalla federazione e soprattutto quali gli obiettivi da raggiungere, da conquistare? Dunque, la federazione come si sa presenta diversi settori, i principali sono la pesca nel settore acquinterne e nel settore mare, poi ci sono attività subacue, tra cui il notopinnato, la subacue e la didattica. In particolare noi siamo impegnati, ovviamente, per le attività legate alla pesca. Ogni anno organizziamo tra il settore mare e il settore acquinterne qualcosa come quasi 100 manifestazioni, 100 manifestazioni per oltre 20 specialità diverse. Ma la federazione non è solo pesca, noi siamo anche un'associazione ambientalista, quindi siamo anche impegnati nel miglioramento delle condizioni ambientali, soprattutto delle acque interne. Si pensi che la federazione da almeno 20 anni in provincia di Salerno gestisce delle acque pregiate, le acque a Salmonidi, sui fiumi Selle e Tanagro, sul Picentino e sul Tusciano, da quest'anno, o meglio dal 2015, anche sul calore salernitano, quindi alle porte del Parco Nazionale del Cilento. Ma gestire queste acque significa anche migliorarle dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista della pescosità, recuperando i ceppi autoctoni di Salmonidi che sono comunque presenti in questi corsi d'acqua. Significa attivare la vigilanza con le proprie guardie. Noi quest'anno, il 18 ottobre, partirà il nuovo corso di formazione per guardie ittiche volontarie, organizzato proprio dalla Fipsas, e riusciremo quindi ad incrementare il numero di guardie che ci occorrono per aumentare il controllo e la vigilanza del territorio, per reprimere laddove è necessario anche i fenomeni di degrado del fiume. Purtroppo negli ultimi anni siamo stati, tra virgoletti, invasi da pescatori illegali, per lo più provenienti dall'Europa dell'Est, i quali non hanno assolutamente rispetto per i nostri ambienti, depredano i nostri corsi d'acqua e purtroppo ci tocca dire a volte noi prima ancora delle istituzioni siamo in prima linea per far sì che questi corsi d'acqua siano preservati anche e soprattutto per le generazioni future. Siamo con il presidente del Cava Team, società organizzatrice del quarto torneo di surfcasting che si svolgerà il prossimo 4 ottobre a Capaccio Pestum. Quali le attività svolte dal Cava Team prima di entrare nel vivo della manifestazione? Buongiorno, salve, diciamo che il Cava Team è nato da un'iniziativa proposta dal negozio Sport House di Alfonso Barone e oggi è diventato nostro partner. Il tutto praticamente è stato conciliato da tutti quanti per un incremento notevole di persone. Oggi noi facciamo un'attività di surfcasting con una squadra e cercheremo praticamente di portare questa iniziativa, questa squadra ai livelli diciamo più alti. Volevo fare un ringraziamento insomma anche al nostro vicepresidente, a tutti i collaboratori che ci hanno permesso insomma di andare avanti e continuare questa bellissima attività. Il torneo di surfcasting organizzato dal Cava Team, nel dettaglio cosa consiste la manifestazione, oltre 100 i tesserati che prenderanno parte a questo evento, un evento che cresce sempre più. Sembra davvero di sì che questo evento iniziato quattro anni fa oramai stia prendendo la giusta dimensione e noi dell'associazione e quindi interessati direttamente al trofeo auspichiamo che questo trofeo possa portare dei risultati ovviamente sul territorio anche a livello di conoscenza perché è uno dei nostri principali obiettivi. Ripeto, siamo al quarto trofeo e nasciamo come dilettanti ma stiamo cercando di migliorare tantissimo soprattutto per quanto riguarda la conoscenza di questo sport e estenderlo anche all'esterno di questa cerchia limitata solo di noi adepti. Sul litorale di Capaccio si terrà questa gara che quest'anno proprio in virtù degli errori e delle esperienze precedenti abbiamo cercato di eliminare quelle cose che non andavano bene dove è possibile, abbiamo cercato di dare il maggior comfort possibile a tutti i partecipanti per quanto riguarda sia la gara sia l'accoglienza degli eventuali spettatori che ci aspettiamo ovviamente numerosi. La gara si svolgerà tra l'altro quest'anno con la presenza per esempio di alcuni elementi della nazionale di pesca e quindi questo arricchisce in qualche modo e richiama a maggiore pubblico eventualmente quale è il nostro interesse principale. Ovviamente questa gara prevede una classifica con dei vincitori perché poi è il succo della gara e vincere dei premi. I premi consistono innanzitutto in delle coppe ai primi classificati coppe alle quali vengono affiancate delle attrezzature, delle attrezzature ovviamente a livello agonistico quali canne da pesca eccetera. Mano a mano che si scende in classifica i premiati saranno circa 60 perché noi prevediamo un campo gara che presenti al via circa 100 atleti e ovviamente ci saranno anche ulteriori premi che prevedono per esempio accessori per la pesca scendendo nei premi inferiori fino a arrivare anche a dei prodotti di degustazione enogastronomica per le ultime posizioni giusto per non fare andare via i partecipanti a bocca asciutta. Un'ultima nota che mi preme sottolineare velocemente è per quanto riguarda la classifica. La classifica di questo sport che non tutti conoscono si rifà al regolamento nazionale e prevede 50 punti per ogni preda pescata più un punto per ogni grammo del peso. Pertanto se una preda pesa 50 grammi avremo 50 punti perché è stata pescata la preda più 50 punti per ogni grammo e fanno 100 punti per questa preda e si stilerà una classifica che verrà effettuata sia manualmente che con l'ausilio di computer quindi in tempo reale verrà stirata la classifica avremo i vincitori e quant'altro.